A Battipaglia torna il Partito Comunista ed annuncia un impegno concreto in vista delle prossime elezioni comunali. A presentare gli obiettivi del partito con la falce ed il martello il segretario Rocco Simone. Noi da qualche mese abbiamo riaperto una nuova sezione del Partito Comunista, Partito Comunista Nazionale che fa capo all'Europarlamentare il compagno Marco Rizzo e abbiamo riaperto questa sezione in Piazza San Francesco di Battipaglia per cercare di risolvere i problemi annosi dei cittadini di Battipaglia. Come sempre dei comunisti sono sempre presenti sia a livello locale che a livello nazionale per cercare di stare sempre a fianco del popolo, a fianco dei lavoratori. Una questione che si lega anche alle varie crisi industriali che ci sono e la più calda in questo momento è quella relativa alla Treofan. Qual è la vostra posizione in merito? La nostra posizione in merito, come abbiamo riferito domenica mattina ai lavoratori della Treofan, dove abbiamo fatto visita, abbiamo portato credo per primi la solidarietà e l'impegno e l'appoggio dei comunisti di Battipaglia ma soprattutto dell'appoggio del partito a livello nazionale dove abbiamo fatto già tutte le istanze e devo dire che in base alla nostro arrivo dopo l'incontro con gli operai abbiamo un buon smosso le acque visto che è arrivato anche il ministro Di Maio a cercare di risolvere i problemi. I comunisti sono a fianco dei lavoratori, hanno fatto anche delle proposte ai lavoratori e credo che sarà anche al tavolo del dibattito tra Di Maio che dovrà, abbiamo già detto che Di Maio dovrà, come ha detto anche lui nella sua visita a Battipaglia, aprire un tavolo di trattative con la nuova dirigenza indiana. Il partito comunista ci sarà alle prossime elezioni comunali? Il partito comunista a Battipaglia cercheremo di essere presenti come in tutta Italia, come il 4 marzo scorso siamo stati presenti. Dopo 10 anni e passa per la prima volta abbiamo presentato sulla scheda elettorale il simbolo glorioso della falce e martello per cui abbiamo preso più o meno l'1% perché in tutte le regioni non ci siamo presentati però abbiamo avuto un discreto successo. A livello locale sarà sicuramente presente come saremo presenti alle elezioni europee del maggio prossimo. Saremo sempre presenti, sempre.